Senti a me, qui non c'è nessun limite, nessuna diplomata e cosa. Tu devi uscire, ti devi salvare. Chi si tratta di uscire da questo museo? Senti a me, tu devi uscire da qua dentro. Ti fai a me, vai a me, vai a me, vai a me, vai a me. Mamma mia, mamma mia, ti mando un manicomio a te. Ti fai orrendo un manicomio, tu esci e... Mamma mia dice che io ho il complesso nella testa. E fosse tu? Quale è il complesso? Tu tieni l'orchestra intera. Robè, tu devi fare qualcosa. Mamma mia! Oh, guarda mamma mia! Io faccio per te, a me come non porti un manicomio? Non fai, mi passa neanche per la capa. Mamma mia! Oh, Robè! Mamma mia! Robè, Robè! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia!